Credo tuttavia che oggi abbia io il dovere di dirvi, e voi come cittadini italiani, abbiate il diritto di essere da me rassicurati che per sei anni e mezzo avete avuto come Presidente della Repubblica un uomo onesto. 9 novembre 2001. Muore Giovanni Leone. Napoletano, giurista e docente universitario, politico nelle file della democrazia cristiana, Leone è il sesto Presidente della Repubblica Italiana. È al Quirinale dal 29 dicembre 1971 al 15 giugno 1978, quando, a causa dello scandalo Lockheed, è costretto a rassegnare le dimissioni, sei mesi prima della naturale scadenza del mandato.